Top Jet, Top Jet, da Jik Niko, Itachi, the best. Trio Stop Inetek, presente? Amori sono i nuovi. Le neve! Quando scocca l'ora della pensione e l'uomo lavoratore può finalmente fare del suo tempo e della sua vita quello che vuole, allora e solo allora prendono vita gli interessi dimenticati, i sensi sopiti, i viaggi mai fatti e così l'uomo lavoratore alza felice il calice dicendo Dovrei fare un brindisi alle nostre fortune. Pantozzi va in pensione, giovedì alle 20 e 30 su Italia 1. Se vi piace la natura, la panda 4x4 fa per voi. Se poi la preferite verde, la natura, non la panda, sceglietela in versione ecologica. La panda, non la natura. Panda, se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Le grandi melodie, per conoscere gli autori, le voci, i brani più celebri. Un viaggio indimenticabile nella musica classica, lirica, operetta e canzone. In edicola il primo fascicolo e la prima compilation in cd o cassetta. Le grandi melodie, la colonna sonora della nostra vita. Il teatro è vita, il parioli è Leo Gullotta, è Franca Valeri, è Alessandro Benvenuti, è Gigi Andrea, è Arturo Brachetti, è Joelle Dix, è Grazia Scuccimarra, è Giobbe Covatta. Per sapere di più, 06 808 35 23. Anche oggi abbiamo attraversato il mondo con i nostri uomini, le nostre tecnologie, il nostro lavoro. Per portare energia nella vita di tutti. Per dare alla nostra terra la libertà di non cambiare mai. Tutto questo è il gruppo Eni. Finché c'è Eni, ci sarà energia. Due lamberjack si incontrano sempre. Pimpin, cubano, giù verso gli abissi, in apnea. Profondità, meno 92 metri. Con lui c'è Sector. Sector, no limits. Taci, striscia la notizia, ti ascolta. Emilio, Carelli. Eccomi. Sono Emilio. Chi parla? Sono Emilio. Ah, ciao direttore. No, voglio dire, di all'Ainati che non si metta a fare e dire le cose che dice lì mentre è in bassa frequenza, che ha detto fino adesso, considerando che lo sentono qui all'interno, che lo può pure prendere striscia la notizia. striscia la notizia, prende, incarta e porta a casa. Sì, a casa vostra. Da domani, tutti i giorni, alle 20 e 25, su Canale 5. Ciao. Ciao. Striscia la notizia, il telegiornale più amato dagli italiani. Un programma di Antonio Ricci.